Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Attraccherà la banchina 19 del porto di Ancona, la nave umanitaria Ocean Viking, il cui arrivo è previsto per domani nella tarda mattinata con 68 persone a bordo, tra i quali ci sarebbero anche 4 minori, persone salvate in acque internazionali a largo della Libia, provenienti da Bangladesh, Egitto, Palestina e Siria. La prefettura di Ancona ha predisposto l'accoglienza per i profughi, che arriveranno con la nave, che sbarcò il 10 gennaio scorso nel Porto Dorico, primo sbarco nel capoluogo. Ma gli sbarchi sono diventati troppi, dice il vice sindaco di Ancona Giovanni Zinni, anche se la prefettura ha assicurato che tutti i profughi saranno accolti fuori regione. Ennesimo sbarco ad Ancona e adesso sono diventati davvero tanti. Non c'è dubbio, questo problema dello sbarco dei migranti sta raggiungendo numeri assolutamente inaccettabili per l'Italia in generale, ma anche la nostra Ancona è evidente che inizia a soffrire un attimino questo tipo di sbarchi. Ovviamente noi continueremo a fare la nostra parte in termini di solidarietà umana e di piena partecipazione alle operazioni con la prefettura e tutte le forze dell'ordine e soprattutto tutte quelle forze che mettono in campo assistenza sanitaria. Siamo leali al governo perché crediamo che il governo si stia muovendo bene in Europa per cercare di ridurre questi sbarchi. Ovviamente ci sentiamo di dire che se si dovessero intensificare Ancona non sarebbe in grado di reggerlo né come strutture di prima accoglienza e né probabilmente nella gestione poi dei migranti nel territorio. In questo caso sembrerebbe che comunque possano essere smistati i migranti e non rimanere sul territorio di Ancona. Sappiamo dalla prefettura che i migranti che scenderanno verranno poi allocati in strutture in territori al di fuori della regione Marche e così è confermato.